Dunque a Pesaro una buona prova, soprattutto tre punti meritati senza subire gol. Sesto blitz esterno, terzo posto a cinque lunghezze. Dopo la pessima prestazione di Fermo, il Delfino rialza la testa con tecnica e personalità. L'attivo due gol e altrettanti legni colpiti da Dursi e Pompetti. Contro la Fermana, dichiarato Auteri ieri nel post-gara di Pesaro, non siamo stati capaci di trovare gli spazi necessari contro una squadra chiusa a riccio. E' mancato il movimento senza palla. Ciò che abbiamo scritto in sede di commento. Al Recchioni un solo tiro in porta contro un avversario ridotto in dieci per un tempo e in grave difficoltà. In gare del genere servono idee. Sotto questo profilo il Pescara è stato senza dubbio deludente. Riconoscerlo non è affatto una diminuzio, tutt'altro. Talvolta un pizzico di autocritica non guasterebbe. Vero mister? Con la stessa onestà rimarchiamo la buona prestazione offerta a Pesaro. Al Benelli il Pescara ha vinto senza incassare gol. E' la sesta volta dall'inizio della stagione. Era già caduto contro Olbia, Lucchese, Pistoiese, Imolese e Dentella nel match di ritorno finito 0-0. Gara sempre in controllo. E' piaciuta la gestione dei vari momenti. La Viz ha accettato il confronto. Si è aperta ed è stata punita. E se agente come Pompetti, Pontisso o Clemenza concedi l'opportunità di dialogare, sono guai. Si è sbloccato Cernigoi e a prescindere dalla marcatura si è battuto con ardore e generosità. L'ex Seregno ha fatto la sportellate. Ha soprattutto legato il gioco, ovvero quel che gli riesce meglio. Zappella ha confermato la sua grande duttilità. Quattro ruoli in 90 minuti. Ha cominciato da terzino destro, spostato nel ruolo di Mezzala. Dopo l'uscita per infortunio di Pontisso ha trovato la via del raddoppio. Poi è stato impiegato sulla fascia Mancina e ha concluso da esterno alto nel tridente d'attacco. Zappella, come si dice in gergo, a gamba, cambio di passo e tanta energia. Di certo una risorsa. Gli strappi e le accelerazioni di Saccani potevano rappresentare un pericolo concreto. Grazie ai continui raddoppi e alla buonissima prova di Veroli, assai lucido in chiusura, il laterale della Vis è stato di fatto annullato. Insomma, contro un avversario non irresistibile, il Pescara ha fatto il suo, ma ha davvero nulla da eccepire. Questa volta la partita è stata preparata bene. Grazie.